Un nightclub rilevato da un'associazione culturale in apparenza, ma che in realtà altro non era che una vera e propria casa del piacere. Succede a Modica, l'ex chat noir incontrata Musebbi, dove la polizia questa notte tratte in arresto quattro uomini ed una donna, che avevano creato una vera e propria casa del piacere nella tranquilla cittadina modicana. Si tratta di Corrado di Rosolini, di 54 anni, originario di Rosolini ma residente a Siracusa, della Volese Gaetano Rametta, di 53 anni, e dei Modicani Luca Interlando, di 41 anni, e Giovanni Rubbera, di 37 anni, e infine della compagna rumena di quest'ultimo. I cinque sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere, finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le donne risultavano stabilmente residenti a Modica, mentre altre pendolari del sesso venivano ospitate per brevi periodi in un'abitazione rurale di via Fiumara. La polizia ha scoperto che l'organizzazione aveva anche ideato una rete di pubblicità via internet, con veri e propri annunci di lavoro, indirizzata a ballerine, ragazze immagini e figurante di sala. Lo stratagemma fungeva da vero e proprio specchietto per le allodole, per richiamare da ogni provincia d'Italia donne disponibili e dai territori confinanti con la provincia di Ragusa uomini allettati dalla possibilità di fare sesso. Per altre malviventi avevano elaborato un sistema per intercettare anzitempo eventuali controlli della polizia, con l'installazione di numerose telecamere, di un sistema d'allarme e una porta in metallo munita di finestrella, al fine di verificare l'identità degli avventori prima del loro accesso. All'interno del Paradise Club erano state create 11 zone riservate, chiamate privè, dotate di divanetti in cui le donne si appartavano con clienti dopo averli agganciate nella sala principale del night. Tanti nascondigli in cui gli indagati celavano numerosi preservativi da cedere ai clienti, un blocnotes con appunti criptati riferiti al numero e alla durata delle prestazioni di ciascuna donna. Persino un sistema luminoso comandato da un unico interruttore posto vicino alla cassa, con cui avvisare gli occupanti dei privè dell'arrivo della polizia. Il giudice ha ora disposto il sequestro preventivo dell'immobile.